quando c'è caldo? puoi passare un po' con il finestrino? è a mano, prendilo con due mani è freddo, stagli a scendere qui, bravi, bravi, bravi un po' da questo non si abbassa non si abbassa speriamo che va bene, anche il metodo è troppo bene si può? o non si può? no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no